Sono una base. Che valore hanno i pentacoli? Commento. Sono una base per la forza magica, ma se l'operatore non sa attrarre questa forza su di essi, sono diagrammi privi di ogni efficacia. Se usati dall'iniziato però, che ha compreso il loro vero significato, i pentacoli divengono per lui una potente protezione, perché sublimano la sua volontà.